Gira, 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 bravo. Gira, 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 fai subito, gira, fai chiudi con le canne. Fai chiudi con le canne. Poi chudi con le canne. Gira, fai chiudi. Fai chiudi con le canne. brava, gira, 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 alza l'acqua, vai subito, rientri adesso ci abbiamo scordo avanti Francesco, Basile e Niccolò venti dritti, venti dritti, guarda avanti ci premai la categoria fino a 60 kg Corsi Alessandro, Lembo Paolo, Bongiovanni Giuseppe, Bellinghieri Giuseppe certo, certo, non ci manca l'acqua vai, continuate così venti dritti, ecco, e chiudi con le gambe forza Manu, vai, chiudi sempre con le gambe vai Manu, bravo, bravo, alza l'acqua tempo, tempo, mano, vai stop ah, esci ah, esci ah, 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 ah ah, ah ah, ah ok, ah, ah ah no ah 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 ok ho osp雅 ah ah io ti arrivo ai partiti se lo faccio e che vado a fare se devi ripartire se sei per la prima parte da la gente posso ritoperare? non metti con il segonario a fare il tipo di… ok? se ne metti 1 a lei dove lo parla con me e non metti 1 poiché il punto di vista guarda! 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 fuori i secondi rientra subito e che ti collegano ma che gioccio forza alza ragazzi bene e poi fai immediatamente bravo forza cebloghi cebloghi guerreroghi bravo sopiti bravo guardate guardate bravo sopiti bravo vai mano chiudi con le gambe con le gambe vai vai mano 2-3-5 bravo c'è 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 moving giovanni 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 io si in Grazie.